Un buongiorno a tutti, un buongiorno anche perché oggi, lo possiamo dire solo in questa mattinata direttamente, siamo zona gialla, ma non solo per il sabato e la domenica, ma anche per la prossima settimana. La Toscana resta gialla per la terza settimana consecutiva, con un RT che si mantiene al di sotto della soglia 1. Lo si apprende da un post sui social network del governatore, Eugenio Gianni, che annuncia la conferma della fascia in una classificazione di rischio bassa, appunto, per la terza settimana consecutiva. Devo ringraziare tutti i toscani perché è fondamentale nell'ottenere dati che poi consentono la circolazione con le maglie più larghe, appunto, fra i tre colori, rosso, arancione e giallo, e proprio quella in zona gialla, è per il vostro comportamento, perché con il distanziamento, con le mascherine, con la cautela nei rapporti con gli altri, la Toscana ha potuto, a questo punto, per la terza settimana, e quindi chiuderemo il mese di gennaio, perché la terza settimana di zona gialla nostra coincide dal giorno 25 al giorno 31 di gennaio, ecco che la Toscana si può consentire davvero di poter vivere con una maggiore serenità e libertà di circolazione quello che è la mobilità all'interno della regione stessa. Naturalmente non va guardato con enfasi, quindi io invito a essere sempre in guardia. Naturalmente, quando noi parliamo di quello che è il quadro della situazione, ci sono anche degli accorgimenti che io devo precisare a livello regionale. Stamattina ho firmato un'ordinanza che ricalca un'analoga ordinanza che avevo fatto nel mese di novembre, ovvero noi siamo in zona gialla, quindi nessun problema per un Toscano a andare nella sua seconda casa, che sia al mare, in montagna, nel Borgonatia o così via, però chi viene da fuori, a mio giudizio, deve rispettare il DPCM nazionale che dice che non vi devono essere passaggi fra le regioni. Se viene in Toscana con motivazioni che stanno nel decreto, comunque se vuole rimanere nella seconda casa deve attestare che il suo medico sia lì.